Ciao ragazzi sono Mistix, ad video production, oggi breve video, andiamo soltanto ad estrarre il vincitore del contest della Dofix. Allora, lo so che vi brillano già gli occhi a vedere questo muro della Dofix, ma il vincitore se ne porta a casa solo uno e in palio c'è questo bellissimo purgatorio e un overdrive come ho già spiegato durante il giveaway. Vi voglio però far vedere adesso, ve lo accendo perché guardate che figata, non ve l'avevo fatto vedere prima ma si accende tutto di rosso la basetta che abbiamo qua sotto in plexiglass se riuscite a vedere bene e quindi tutti quanti i pedali della Dofix hanno delle colorazioni differenti e quindi più pedali della Dofix nella vostra pedalboard vi creeranno questo effetto di background, di colori davvero molto figo, soprattutto nel live in cui c'è una luce soffusa e quindi la vostra pedaliera sarà bella luminosa, davvero un impatto scenico molto molto figo. Andiamo subito ad estrarre il fortunato vincitore. Allora, come vedete avete partecipato in 660, not bad, potevate essere di più ma not bad. Posso vedere qua tutti quanti i partecipanti, siete davvero tantissimi, nonostante io vi abbia detto di confermare la mail, qui vedo che molti non hanno confermato e così in tutte le pagine, quindi questi personaggi che si sono iscritti ma non hanno confermato non entreranno nel database e quindi, oh, io ve l'ho detto, quindi purtroppo solo quelli che hanno confermato sono ovviamente nel database, perché no dobbiamo spedire il pedale a una persona reale, quindi dobbiamo sapere che non è un bot, deve essere una persona reale che conferma la sua mail, che conferma il suo indirizzo, perché il pedale deve essere ricevuto da una persona. Quindi, senza ulteriore chiacchiere, vado ad estrarre. Ok, ready to award. Ludi Tamburi. E boom. Fortunato vincitore è... cioè, una mail più semplice non potevi averla. Questa è impronunciabile. Il signor... o la signor Skin Games The Blood Rush, chiocciolahotmail.com, ha vinto. Con la probabilità del 0,38%, quindi di nuovo molta molta fortuna. Ovviamente verrai contattato direttamente dalla Dofix, perché non vi contatto io, il pedale non parte da me. Questi pedali rimangono qua. Il pedale verrà inviato direttamente dalla fabbrica della Dofix a Firenze, quindi loro vi contatteranno e quindi, ovviamente, guardate la mail, perché dovete ricevere il pedale. E ringrazio ovviamente tutti quanti quelli che hanno partecipato al giveaway. Ovviamente tutti quanti quelli che hanno partecipato riceveranno lo sconto del 50% da usare nel sito Presets4All, quindi potete scaricare tutti quanti i preset che vi servono per le vostre produzioni, sia preset per quanto riguarda chitarra, bassi, librerie di batteria, impulse response, quindi davvero avete un sacco di roba al 50% e potete scaricare quello che volete. Io ovviamente vi saluto qui, vi invito ancora ad iscrivervi ai miei canali Instagram soprattutto, perché andrò al NUM come vi ho già annunciato e quindi lì sarò molto più veloce con tutti quanti gli aggiornamenti, con nuovi post, nuovi video. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi ai canali sempre Dofix, seguitevi, lasciate un mi piace al video e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!